Era la prima volta che colpivano in Valtellina e sono subito state individuate, identificate, una arrestata e l'altra speriamo di poter arrestare quanto prima. Ecco le scaltre e autrici del furto con destrezza commesso il 17 agosto alla gioielleria Bonaiti di Sondrio. Nel video vi mostriamo come hanno agito le ladre, entrambe di etnia Rom senza fissa dimora con sede d'appoggio in un campo nomadi di Bergamo. Una serena Demetrio di 30 anni, arrestata venerdì scorso dagli agenti della squadra mobile della questura di Sondrio, dristrae il gioielliere Riccardo Bonaiti fingendo di essere interessata all'acquisto di collane e orecchini per il suo ormai prossimo matrimonio. La complice di 56 anni spacciandosi per la madre nasconde dietro lo specchio posato sul bancone un rotolo pieno di orecchini realizzati dall'orafo e mentre il negoziante consiglia la più giovane lo copre con un fulare e quindi prende il contenitore di gioielli rimettendolo nella borsa per ben due volte allontanandosi con un bottino di 20.000 euro. Dopo una delicata attività di intelligence, venerdì gli agenti di Sondrio coordinati dal sostituto procuratore Stefano Latorre hanno bloccato a Romano di Lombardia nella Bergamasca la Fiat usata per il colpo, arrestando la trentenne sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Fabio Giorgi ed ora detenuta nella casa circondaliare di Bergamo. Lo stesso provvedimento pende sulla complice al momento ricercata. Abbiamo identificato la macchina con cui loro sono arrivati a Sondrio e tramite il sistema di videosorveglianza non solo di Sondrio ma anche di tutta una serie di reti stradali siamo riusciti a individuare il luogo di provvedienza o di partenza di queste donne che sono italiane ma senza fissa dimora. Una volta che sono state identificate non solo attraverso le immagini ma anche grazie a un'impronta che la donna più giovane ha lasciato su quella cornice a specchio è stata fatta l'informativa conclusiva al PM il dottor Latorre che dirigeva le indagini e così ottenendo le misure cautelate. Ad ingannare l'orafo anche l'interesse all'acquisto di un gioiello per il quale la giovane aveva chiesto una modifica anticipando la somma di 50 euro un comportamento furbo per non destare sospetti. Le due donne sono due esperte nel settore riescono a carpire la fiducia del gioielliere sono vestite molto bene, parlano molto bene l'italiano hanno una certa conoscenza dei gioielli, degli oggetti in oro e vanno lì come due normalissimi clienti il gioielliere non ha nessun sospetto tra l'altro naturalmente loro avevano dato un nome falso avevano dato un numero di telefono falso, avevano dato tutto falso quindi noi avevamo soltanto le immagini e avevamo soltanto l'orario in cui questa avevano lasciato la gioielleria lì la squadra mobile è riuscita con un lavoro certosino di controllo di tutte le telecamere a individuare l'autovettura con cui potevano aver lasciato la zona e a Bergamo siamo riusciti a raccogliere elementi probatori necessari per il provvedimento di custodia cautelare che è stato prontamente emesso dall'autorità giudiziaria di Sondrio che è stato prontamente in un'autorità giudiziaria di Sondrio